salve a tutti cari amici e colleghi bentornati per un nuovo appuntamento purtroppo per me sul banco abbiamo una mini sega a batterie 24 volt presumibilmente perché dici presumibilmente? il carico a batterie è da 21 volt e poi in questo involucro credo ci siano 5 celle quindi 1, 2, 3, 4 e 5 calcolando che all'interno ci sono 5 celle da 3,6 volt la famosa batteria a litio 18650 3.6 per 5 uguale 18 cari colleghi premetto che rifiuto sempre categoricamente questo genere di riparazione quando si presentano alla porta qui da me dico sempre di non offendersi e di comprare l'utensile nuovo perché questi attrezzi senza marca non si sa affabeita non c'è un etichetta non c'è niente non si sa che modello è sono tutti prodotti di scarsissima qualità cinese ad alto costo sono curioso adesso di vedere se all'interno di questa batteria se ci sono delle celle miracolose ossia che da 3,6 volt nominale per ogni cella magari c'è qualche tipo di cella miracolosa di produzione cinese della quale non sono al corrente allora perché hai preso la riparazione? ho preso la riparazione perché questo utensile è di un mio vicino di casa che non si tira mai indietro ogni volta che chiedo aiuto quindi è cosa dovuta lo devo fare nel contempo approfitto per fare un breve video magari può venire fuori qualcosa di utile per coloro che maneggiano questo genere di attrezzi tornando all'utensile specifico l'attrezzo è praticamente nuovo potete notare che non ci sono segni di usura di nessun tipo a parte un po' risporcizia per quel quarto d'ora che ha funzionato difetto riscontrato dal nostro amico e semplicemente non funziona quindi se lo premo non parte se proviamo a collegare il caricabatterie miracoloso che da 21 poi diventerà 25 26 eccetera eccetera si accende la luce verde nel momento in cui inserisco il connettore dovrebbe diventare rossa sintomatica di avviamento della messa in carica ma non accade praticamente niente ricordatevi sempre che se non siete degli esperti non maneggiate le batterie a litio batteria a litio rotta buttatela e comprate la nuova sul web è pieno di video di personale che non è tecnico specializzato che maneggia continuamente le batterie a litio collegando fili filucci provo a fare una ricarica di una cella eccetera eccetera e sono quasi sempre gli acquirenti dell'immondizia cinese spesso venduta in alcuni famosi supermercati quindi non maneggiate le batterie a litio se non siete esperti come sempre cari colleghi analisi guasto si parte l'alimentazione direi di cominciare a verificare il funzionamento dell'utensite stesso sulla batteria abbiamo impresse le polarità ed eventualmente ci sono ulteriori contatti che in questo caso non vedo presenti né sulla batteria né sull'utensite che sono destinati alla sicurezza circa temperature controlli eccetera eccetera ma in questo caso la batteria è collegata direttamente all'utensile motivo per il quale direi di alimentare direttamente l'utensile io lo alimento a 18 volt e vediamo se funziona poi se dovesse risultare veramente 24 perché la batteria è miracolosa allora lo porteremo a 24 utensile collegato direi di dare alimentazione partiamo con una scarsa tensione va bene dai 10 volt più che sufficienti si l'utensile funziona direi che possiamo portarlo anche fino a 18 perché sono sicuro che a 18 volt ok che tensione abbiamo sulla batteria scarsissima abbiamo meno di 5 volt quindi c'è qualcosa che non va sulla batteria ok smontiamo l'involucro sono praticamente quattro viti molto semplici da fare incredibilmente molto semplici da fare cioè rispetto a tanti altri utensi che le batterie sono saldate queste diavolerie cinesi sono smontabili che non è la prima volta che mi tocca fare questo genere di riparazioni ok smontiamo bene ecco come si presenta direi di passare direttamente ad un collaudo però per le persone che hanno un minimo di curiosità direi di spiegare brevemente come funzionano questo genere di batterie sono differenti rispetto ai pacchi batterie nickel cadmio o nickel metal idrato cioè che cosa significa significa che in effetti questo qui non è un caricabatterie è a tutti gli effetti solo un alimentatore semplicissimo e dove sta il caricabatterie eccolo qua questo è il vero caricabatterie perché il caricabatterie all'interno della batteria e non è all'interno dell'alimentatore che poi viene chiamato batteria batteria perché perché essendo batteria a litio che sono molto differenti come funzionamento rispetto al nickel cadmio e nickel metal idrato eccetera eccetera hanno bisogno di essere caricate una per una cioè che cosa significa che tramite questo integrato si può constatare la carica di ogni singola cella in modo che ogni cella sia perfettamente bilanciata con l'altra cioè tutte quante le celle dovranno lavorare alla medesima attenzione c'ho il cane che dorme e ha un incubo ricorrente e sta abbagliando mentre dorme quindi se sentite l'abbaglio è semplicemente il mio cane che ha qualche tipo di di incubo sarei curioso di sapere con chi se la sta prendendo quindi cosa accade se durante il funzionamento o durante la ricarica una delle cinque celle dovesse mostrare cegni di sedimento oppure non rispetta le caratteristiche progettuali la batteria muore viene interrotto il flusso di energia tramite questo mosfet presumibilmente in questo caso perché ancora non l'ho studiato ma avendo le smontate altre vado un po' per esperienza per questo dicevo che ci sono persone che poi si mettono a maneggiare cosa significa se una cella rispetto alle altre è morta vuol dire che la cella è morta punto e basta inutile smontare la batteria e mettersi a ricaricare manualmente una singola cella per farla riprendere rispetto alle altre prima o poi state tranquilli che verrà fuori un bel incendio per che cosa per una batteria cinese ok andiamo avanti con la diagnosi direi di misurare il potenziale della batteria quindi andiamo con il meno sul meno e il più sul più e accipicchia ragazzi qui abbiamo circa 16 volt quindi vuol dire che le celle in effetti stanno funzionando ma poi in definitiva sul sul connettore vediamo un po' sul connettore avevamo misurato 5 volt e in effetti sì anzi adesso ci abbiamo 10 addirittura c'è qualcosa che non che non va e dobbiamo capire il perché direi di collaudare cella a cella prima del tester dei cacciaviti degli oscilloscopi e di tutto in casa dobbiamo avere sempre le lampadine vediamo un po' questo sembra andare calcolate che la lampadina è da 12 volte quindi io sto andando una lampadina a 12 sto vedendo se in effetti c'è una cella è un po' rognosa e questa è la cella che in effetti è un po' rognosa è proprio questa qua questa cella qui è un po' rognosa questa va rognosa va 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 misuriamo la tensione seppur a vuoto allora andiamo con la prima circa 39 andiamo con la seconda la seconda ci tira fuori poco e niente andiamo con la terza anche questa 39 penultima ok anche questa 39 ok direi proprio che va a volte queste batterie si interrompono internamente e hanno il problema di interrompersi internamente non è la prima volta che mi capita una cosa del genere riproviamo no questa qui è andata tornando al discorso dei 24 volt ogni cella di queste qui tensione nominale 3,6 volt poi quando diventano completamente cariche possono arrivare anche a 4 volt ma per poter sviluppare 24 volt nominali ogni cella sarebbe dovuta essere da 4,8 volt ad oggi non mi è mai capitato una cella a litio da 4,8 volt le 3,7 d'accordo le batterie lipo a 3,8 ma la cella da 4,8 non mi è mai capitata quindi se esiste devo imparare una cosa sicuramente nuova se invece non esiste vuol dire che queste cose cinesi lasciano il tempo che trovano insomma diventano una batteria da 24 ma la batteria non è da 24 quindi secondo me le celle non sono miracolose queste sono celle da 3,6 ecco queste sono delle batterie nuove erano contenute in un pacco batterie è stato buttato l'utensile io ho recuperato le celle questa è una 186,50 tensione nominale 3,6 volt perché hai sostituito la singola cella l'hai detto prima che quando un pacco batterie del genere si danneggia va buttato la verità ragazzi è che questo pacco batterie è nuovissimo non c'ha 200 cicli o 300 cicli è un pacco batterie che avrà forse uno o due cicli non di più quindi siamo di fronte ad un guasto di fabbrica della singola cella le altre sono praticamente nuove ce ne accorgeremo subito in fase di carica e scarica di ogni singola cella che poi vi farò vedere come faccio ad analizzarle le batterie a litio è importantissima la saldatura vi siete chiesti perché di solito per le batterie a litio si usa solo esclusivamente la saldatura a punti perché sono celle estremamente delicate il calore le può distruggere l'eccessivo calore le può distruggere motivo per il quale la saldatura deve essere effettuata ad altissima temperatura e deve durare qualche istante quindi io di solito metto il saldatore anche a 480 gradi metto un po' di pasta salda e poi in un istante faccio la saldatura è l'unico modo per far sopravvivere la cella inoltre mi posso permettere di fare quel lavoretto che avete visto poco fa perché ho in casa svariati caricatori con i quali posso tenere sotto controllo ogni singola cella quindi posso collaudare l'intera batteria cella per cella nel verificare se una di queste celle magari ha qualche tipo di problema queste sono delle batterie lipo per esempio cioè non sono le lion sono le lipo poi ci sono i pacchi anche l'ife eccetera eccetera quindi diciamo che ho avuto modo di fare un po' l'esperienza con questo genere di accumulatori con l'auto rapidissimo ok 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 misuriamo anche le celle una per una testere scala 10 ok 3 9 questo ci va anche questo qua ci siamo la centrale ci siamo ultima ci siamo passiamo in scala 50 misuriamo l'uscita che è finalmente arrivata a 20 volt e non a 24 accendiamo l'alimentatore prendiamo il connettore e inseriamolo nella batteria ecco che la luce è diventata rossa faccio lo sgancio ecco la luce verde faccio l'aggancio ecco la luce rossa che cosa significa significa che la batteria in ottimo stato motivo per il quale l'integrato destinato alla gestione da l'assenso alla ricarica dell'accumulatore siccome io non mi fido mai delle batterie a litio generalmente che siano esse l'ion lipo l'ife eccetera eccetera quando faccio i cicli di carica e scarica non le tengo mai dentro le tengo sempre fuori in modo che qualsiasi cosa dovesse accadere non mi provo gli incidenti all'interno del garage fonda con casa eccetera eccetera ecco perché utilizzo quei carica batterie specifici che avete visto prima in modo da tenere sotto controllo ogni singola cella quei tipi di carica batterie lì se solo una cella in fase di ricarica o scarica ha un problema si surriscalda o cose di questo tipo il carica batteria va in allarme e dice riferisce qual è la cella difettosa per questo dico sempre che questo genere di lavori non vanno fatti in casa da personale non esperto e non attrezzato e mi riferisco sempre a quei personaggi clienti fissi di certi supermercati che poi smaneggiano montano smontano questo genere di accumulatori rimontato il pacco batterie solo esclusivamente per fare un collaudo insieme una mano sola certo non è facile ricordiamoci sempre che qui stiamo in verde se collego divento rosso prima di riconsegnare il pacco batterie miracoloso al proprietario insieme al suo dispositivo naturale lo sottoporrò ad qualche ciclo di carica scarica esaminando così l'energia erogata da ogni cella se risulterà perfettamente equalizzato bilanciato potrà tornare nelle mani tranquillamente ed in sicurezza nelle mani del legittimo proprietario ragazzi se potete acquistate utensili che detengano un minimo di qualità diffidate da questo genere di oggetti sono solamente soldi che vengono bruciati siamo giunti a fine video con la batteria miracolosa continuo sempre a suggerire a tutti quanti quindi non maneggiate le batterie a litio se non siete degli esperti detto questo carissimi amici e colleghi vi saluto un grande abbraccio a tutti ed aggiornarci al prossimo video ciao 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 ciao